E' in programma da martedì 13 a sabato 17 dicembre a Fano la settimana conclusiva del progetto europeo contro il bullismo. Questo progetto ha riguardato il bullismo con tutte le sue sfaccettature. Sono stati distribuiti dei questionari per ragazzi nell'età compresa dagli 8 ai 14 anni, di cui solo 1300 nella città di Fano. Questi questionari sono stati analizzati e questo convegno conclusivo è il momento per presentare questi risultati. Sono stati inoltre attivati dall'Università Ca' Foscari di Venezia dei master per gli insegnanti e attraverso il laboratorio linguaggi qui di Fano sono stati presentati delle performance teatrali con la collaborazione degli studenti delle scuole fanesi. Spettacoli che verranno presentati giovedì mattina. Questa è la settimana conclusiva di questo progetto. Partecipando si potranno vedere anche delle cose molto importanti come la discussione di molte tesi di laurea. La nostra sfida è la prevenzione. La prevenzione parte da una buona formazione, avere sul territorio persone in grado di attivare e accompagnare, monitorare politiche in questo settore. e anche in grado di intervenire non solamente sui bambini ma anche sugli adulti.